Su Proposta del Comune di Sassari prende finalmente vita un centro di documentazione per la storia dei gremi e dei candelieri. Nel 2023 la firma del protocollo d'intesa, partner fondamentali del progetto, la Curia e l'Intergremio. L'obiettivo è censire tutto il materiale documentario riferibile alla storia dei gremi e dei candelieri che è conservato in diverse sedi. Il Comune, l'Archivio Decesano, gli Archivi dei Gremi, quello di Stato e non solo. Un'operazione che ci aiuta a tenere alto il profilo dell'esistenza culturale della Faradda e soprattutto a recuperare lo studio del documento. Tante le preziose testimonianze a disposizione. Nel nostro archivio è conservato un archivio fotografico importante che è quello dell'archivio di Salvatore Marras, un fotografo che era attivo in città tra gli anni 40 e gli anni 90 e il 1900, che ha un grossissimo patrimonio legato proprio a vari eventi importanti avvenuti in città e uno di questi sono i candelieri. Sicuramente un progetto ampio e ambizioso a disposizione di tutta la comunità. Adesso siamo in una fase evolutiva. Noi ospicchiamo nel giro di qualche anno di riuscire ad avere una buona banca dati, da iniziare a metterla a disposizione dell'utenza perché poi la finalità sarà anche quella di creare una banca dati fruibile online oltre a digitalizzare anche tutto il materiale documentario.